Vorrei partecipare al Sitch Supermoto Day. L'anno scorso non sono andato perché l'ufficio stampa Claudio Orlandani mi ha tenuto in sospeso fino all'ultimo. In realtà ho fatto un po' tardi io e non mi ha accettato. Ho fatto la mia donazione e sono stato a casa. Quest'anno ho fatto le cose per bene per scoprire da subito che non posso essere accettato in quanto Mr. Helmet non è una testata giornalistica regolarmente registrata. Questo è quello che mi viene detto. Per partecipare a un evento di beneficenza e informare i propri lettori o follower, come li vogliamo chiamare, usando quindi la sala stampa, bisogna essere testata e registrata. Io non ho problemi da anni ad accreditarmi anche con dei collaboratori, addirittura al Mondiale Superbike, con sale stampa veramente piccole come Imola, ma Mr. Helmet segue il Mondiale Superbike dal 2007 2008, dal 2011 anche Bike Tweet, l'applicazione mobile. Mr. Helmet è media partner di EICMA insieme a Bike Tweet. Non ci sono stati problemi nemmeno a essere accreditato da anni a Bike Expo, a Padova, a Verona e nemmeno a Moto Days. Cosa fanno questi? Controllano chi sei, cosa fai, guardano quello che scrivi e poi decidono. A SIT SuperMoto Days? No. Mr. Helmet è un sito che ha moltissimi visitatori unici, non voglio fare la gara a rilancio dei dati, non è questo quello che conta. Su Facebook, anche se qualcuno dice che gli utenti sono 300, in realtà ne risultano quasi 54 mila. Mr. Helmet non è più seguito di tutti, però ha un'interazione discreta con un'utenza affezionata, anche su Twitter, quasi 2 milioni di visualizzazioni su YouTube, ma non va bene per Carlo Orlandani. Va bene per la Superbike, va bene per la Donna, ma non va bene per Carlo, per Claudio Orlandani. La mia posizione non è idonea, è idonea per essere invitata a trasmissioni tipo griglie di partenza, automoto TV, come opinionista riconosciuto nel mondo del, operante nel mondo del motociclismo, ma non per accedere a una manifestazione di beneficenza. Molte case mi inviano materiale da testare, vengo invitata ad eventi, ma non a una manifestazione di beneficenza dedicata al sitch. Vengo intervistato da riders come blogger nel mondo delle moto, ma non posso accedere come operatore dell'informazione ad un evento di beneficenza che dovrebbe accettare tutti, questo è strano. Per quale motivo? Vengo anche preso per il culo. Grazie per aver preso a cuore la nostra manifestazione. Eh, pure qualcosa non va. Cioè dei dubbi mi cominciano a venire, come al solito, perché poi dopo uno, quando vede tutta questa attenzione negativa, qualche domanda se la fa. Al di là delle nobili intenzioni e dell'interessamento del signor Capogna, che cosa è diventato il sit super Moto Days? Da spingere il signor Claudio Orlandani a rifiutare l'accredito a qualcuno che fa informazione gratis? Non va bene il modo di fare informazione? Il fine di una manifestazione che fa beneficenza non dovrebbe forse essere quello di informare il maggior numero di persone possibile per ottenere il più ampio sostegno possibile, sia a livello finanziario che di visibilità, ossia i soldi? Non faccio informazione io? Non vado bene io o non va bene il mio pubblico? Per quale motivo? La mia informazione va bene per la rassegna stampa della Dorna, ma è snobbata dal Sitch Super Moto Day dall'ufficio stampa suo, Claudio Orlandani, che non mi accredita ma mi manda le newsletter e i comunicati. Cioè io ne devo parlare, insomma, però da casa senza rompere troppo i coglioni. Il messaggio è quello, Mr. Hellman non è per scelta testata giornalistica, però magari che ne so, l'Eco di Ladispoli, faccio un nome a casa, non so neanche se esiste, viene accreditato, mentre lo sito che si occupa esclusivamente di due ruote da anni, con certo seguito, non è idoneo. Quali sono i meccanismi che muovono il ragionamento di Claudio Orlandani? O al limite, non è che il signor Claudio Orlandani ha ricevuto istruzioni specifiche? Da chi? Per quale motivo? E quanti sono a rimanere fuori oltre a me? Se siamo in tanti è grave, se invece sono solo io forse ancora più grave, una gravità diversa. Alla fine che cos'è il Sitch Super Moto Day? Non è forse una giornata per ricordare un pilota scomparso e raccogliere fondi per una nobile iniziativa? A parte che la mia idea è che al Sitch queste cose interessassero non tantissimo, cioè Sitch voleva solo dare il gas e di certo non era per queste cose qui. Però quando anche fosse stata, avrebbe forse fatto qualche distinzione lasciando fuori qualcuno a cui piacevano le moto e che voleva parlare di lui o con lui? Io non è che credo di avere tutta questa importanza, ma che cos'è che non devo vedere o raccontare e per questo motivo vengo lasciato a casa? Io che ormai ho la nomea negativa di dire tutto quello che mi passa per la testa? È troppo piccola la sala stampa, è troppo piccola. E se vengo lì mi metto all'ingresso e fotografo tutti e poi scopro che non ci sono solo giornalisti dentro come accade in qualunque sala stampa? Magari lo faccio. Compro il biglietto come l'anno scorso, però invece di stare a casa vengo davanti alla porta della sala stampa e controllo. Il fatto è che secondo me il Sitch Super Moto Day è o sta diventando qualcos'altro. L'ultima notizia è che Rossi, Valentino Rossi, ha dichiarato che il 99% non ci sarà perché può correre solo con Yamaha e Yamaha non riesce a mettergli su una moto adatta. Ma adatta per cosa? L'intenzione è gareggiare o partecipare? Vincere o prendere parte a una festa? Ma poi Yamaha non riesce a preparare una moto Rossi e chi cazzo ci crede? Sarebbe come se Rocco Siffreddy non andasse a una festa perché non riesce a rimediare una donna che lo accompagna. Chi ci crede? Chi boicotta? Yamaha? O Rossi non ha voglia di andarci? Ok, non corre, non può andare come ospite a salutare. Il miglior amico di Sitch non dovrebbe nemmeno avere questi pensieri qui. Però poi parli con tanti che ti dicono che loro non hanno tutta questa voglia di andare. Che vuol dire questo? Qualcuno me lo spiega. Perché c'è questo clima? Magari poi Rossi alla fine ci andrà, dopo questo video passeranno dei giorni, magari mentre sto registrando avrà già deciso di andare. Ma perché allora tutta questa moina? Perché tutti questi dubbi? Perché tutte queste pressioni? Perché c'è questo clima? Ma noi alla fine davvero, ammesso che i soldi arrivino a buon fine non ho motivo di dubitare, noi davvero dobbiamo dare i soldi a chi? A dei benefattori o a chi? A dei politici o a chi? A gente che decide che uno può entrare e uno no in base a non so quale criterio. Dobbiamo stare a vedere il miglior amico di Simoncelli bloccato da una stupidaggine con una moto? Oppure lui che non ci vuole andare perché vuole correre con TM, ma Yamaha non vuole perché TM è competitiva e Yamaha no? Ma questa è una manifestazione di beneficenza o di autoerotismo di chi partecipa per farsi vedere, per far vedere che è più figo di un altro, magari qualcun altro non partecipa per ripicca perché c'è quell'altro ancora, uno vuole entrare e non ci riesce, l'altro voleva fare il presentatore lui però ci va un altro e allora non ne parla. Io non sono molto esperto, ma si fanno così le iniziative di beneficenza? Io non sono giornalista per scelta, però le regole le conosco e so che non riesce difficile a chi governa un determinato sport o ambiente mettere fuori gioco colui, l'operatore di informazione fastidioso e più delle volte ricorrendo a comportamenti che violano i più elementari principi della Costituzione italiana, a cominciare dal diritto di poter informare. Sono tanti casi di decisioni che vietano al giornalista, al personaggio, al blog, al scomodo, all'ingresso allo stadio, al pallo sport e in tutti i luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a pagamento. Un divieto semplicemente, che si concretizza semplicemente col rifiuto di un accredito indispensabile per provvedere, diciamo così, al proprio mestiere di informazione, la volontà di informazione, manca la postazione di lavoro in sala stampa. E già, ma tu non sei un giornalista, mi direte. Bene? Allora, se non vengo rispettato come persona o tutelato, posso anche ignorare le regole, visto che non sono giornalista. Ignoro le regole del giornalista e rompo i coglioni, perché non ho editori, non ho padroni, non devo rendere conto a nessuno che mi dà da mangiare se non a voi, che non mi date da mangiare, ma mi date. Ci diamo un sacco di soddisfazioni. Io voglio capire meglio i meccanismi di questa cosa. Questa e tante altre. O no?